Due temi molto importanti, uno di carattere strettamente politico che però la città merita delle risposte, ha bisogno di capire cosa sta succedendo, chi sono gli assessori ancora che stanno lavorando nella pienezza delle proprie funzioni, dei propri poteri e l'altro tema invece è quello del carovita che brucia sulla carne viva dei cittadini. Quindi purtroppo il consiglio non si è tenuto perché la maggioranza non si è presentata in aula, erano presenti solo il presidente del consiglio Castaldo di cui va anche menzionato che ha dato l'opportunità che questo consiglio si facesse concedendo la doppia convocazione anche su questo consiglio comunale qui e il sindaco. Gli altri colleghi non hanno ritenuto opportuno di dover dar conto alla città sia della parte politica ma soprattutto trovare qualche misura per difendere l'economia di questa città da tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda le famiglie che per le attività e le imprese. È l'ennesima occasione che perde questa maggioranza di confrontarsi in aula su temi importanti, quali sono la nuova giunta, questa giunta tanto proclamata dal sindaco dopo il 13 settembre e ad oggi ancora non abbiamo avuto nessun cenno. Noi voglio ringraziare il sindaco che era presente e il presidente del consiglio che ci ha dato la possibilità di riunirci in seconda convocazione, ma c'è un problema serio, questa città ha dei temi da affrontare e l'assise è il luogo giusto dove poterlo fare, anche sul PUC dove c'è un silenzio tombale e la città chiede delle risposte, chiede di partecipare, chiede di condividere le scelte che questa amministrazione ha pensato nelle quattro mura di Corso Campano numero 200.